Il tuo consulente agro-medio ti dà il benvenuto su Agronotizia, il tempo previsto per questo fine settimana 29-31 luglio. Anticiclone nord-africano si attena un po', quindi lambisce appena l'Italia perché è incalzato da una temporalesca e fresca perturbazione atlantica. Allora, il tempo previsto per venerdì 29, rovesce temporale al mattino sulle Alpi, al pomeriggio rovesce temporale diffuse anche forti su tutto il nord Marche, per quanto riguarda invece la sera ancora rovesce temporale su Lombardia, regione di nord-est, Liguria e Alta Toscana. Temperature in calo al centro-sud, massime intorno a 28-30 gradi sulla regione di nord-ovest, 32-33 sulla regione di nord-est del medio Adriatico, 32-34 su Toscana, Umbria e Lazio, 33-35 al sud. Sabato 30, rovesce temporale su Friuli, regione centrale per lo più nelle ore pomeridiane, massime intorno a 27-28 gradi sulla regione del medio Adriatico, 29-31 sul nord Italia, il resto del nord Italia, Toscana, Lazio, 32-34 al sud e sulle isole maggiori. Domenica 31, isolati temporali pomerigliani su Basso Lazio e al sud, tranne la Sicilia, massime intorno a 28-31 gradi al nord e medio Adriatico, 32-33 sul resto dell'Italia.